Ciao a tutti ragazzi, il video di oggi sarà su i quiz, su dei youtuber chiamati Space Volley, non lo so se voi li conoscete, ma ovviamente anche io, io devo scoprire facendo queste domande, speriamo che saranno queste. Allora, trovo l'intusione. Di spolvere. Disseminare. Stimare. Stimare. Qual è il significato più vicino al termine? Audacia. Stimare. Questa è il significato più vicino al termine? perfetto ideale qual è il significato più vicino al termine casella qua siamo un po' in stand by mettiamo linea qual è il domino mancante questo il primo secondo me qual è il risentio che completa la serie secondo me sto disegno sono fatti male ma non lo so cosa mettere mettiamo mettiamo questo qual è il risentio che completa la serie ma qual è il risentio che completa la serie ma qual è la domanda ma li sto facendo ripetitive io vedo ogni volta che qua domande sono ripetitive mettiamo questo vediamo questo qual è la carta mancante è grande 1 il 3 no il 3 c'è il 6 e il 3 è ma l'ho fregato qua raga porca lacca non so se sei di di quadri di quadri o di sei a cuochi mettiamo sia a cuochi quale qual è la carta mancante l'otto c'è sette c'è sette c'è quattro no il quattro giù c'è il set di uomo il set a pic questo qua è pronto? si si perchè? il set a pic il set a pic il set a pic il set a pic scusate se mi sono allontanato ma ma dovevo rispondere al telefono eh il tempo di spedizione per questa domanda è scaduto ecco mannaggia la miseria esatto allora esatto sta sbagliato come abile sta ah 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 ragazzi questi quiz ti mettono proprio ti mettono la logica proprio a ah 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 questo mi rega esatto sta sbagliato come abile sta non so che aveva messo non ho messo mai ma lo metto cosa possiamo ridurre sì tu senza che mi scrivi un'altra lingua perché non lo so leggere questo quindi alla fine ciao ciao patrick intelligenti tutti gli uomini politici sono intelligenti patrick sicuramente commercianti tutti i bambini vanno a scuola roberto bambini in età scolare essendo se ne trascolare di andare a scuola quindi un ottimo studente secondo me l'ha detto cosa possiamo dedurre una persona scondrusa è una persona irritabile le persone anziane possono essere scondrusi non so ma basta con i disegni però è fuori di disegni quale disegno è diverso dagli altri e sotto le quali sono tra le quali sono tra le quali sono tra le quali sono tra le quali suという quali? l'oggetto che puoi scompare a b c d a aiutiamo venire dei secondi il viso e le immagini qual è l'oggetto che puoi scompare non so no quale numero che appare più non so qual è l'intrusse questa qual è la tabella si trova appena di sotto della ventunesima la lettera alfabeto la ventunesima m quale lettera da pezzi dove sotto la lettera che sta sotto all'iniziale di tieghi non so non sa c'è chi si so ok questa figura subisce una simmetria orizzontale poi verticale quale figura ne risulta verticale una verticale questa questa figura subisce una simmetria orizzontale poi verticale quale figura ne risulta allora se questa è orizzontale verticale no quale metto quale figura ne risulta a capa sotto che è se guida una velocità media di mille 1500 metri al minuto quanto tempo mi ci vorrà per percorrere noi noi chilometri molte domande che passo 20 ore a pulire l'intero giardino ok quando tempo ci vorrebbe se quattro persone che lavorano la mia stessa velocità mi aiutassero quattro persone che lavorano la mia stessa velocità mi aiutassero trovo il numero mancante non so manco questo termine test ottimo è superato il test se non è bastato solo questo allora ho superato il test qua e manetto congratulazioni accetto le congratulazioni vabbè e finiamo il video qua allora mettetelo anche in descrizione sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete mi piace e ci vediamo come sempre al prossimo video con un gameplay bye bye